terzo e quarto quarto abbiamo giocato come abbiamo fatto a sprazzi i primi due quarti quando abbiamo costruito due mini break che non siamo riusciti a concretizzare e cioè difendendo forte andando in contropiede o a perlomeno trovare soluzioni nei primi dieci secondi che la cosa che ci riesce meglio ho visto come hai detto tu dei passi in avanti soprattutto nella gestione del vantaggio cosa che di solito siamo un po deficitari perché siamo inizio campionato perché facciamo fatica a capire dove dobbiamo andare invece oggi ho visto dei miglioramenti era importante vincere per l'autostima perché sono convinto che questa squadra del potenziale e tutto quello che facciamo nel campo oggi l'abbiamo fatto noi nel bene e nel male come abbassiamo l'intensità noi siamo bravissimi a abbassarla tutte e 5 contemporaneamente e questo non può accadere l'euro basket è una squadra buona perché con tortona è stata avanti 38 minuti a casale doveva vincere veritatamente e quindi è un successo importante per noi ciao